Benvenuti ad un nuovo appuntamento di cronache e commenti. La Regione Toscana e il Consiglio regionale visto dalle nostre telecamere. Ci troviamo all'interno del Palazzo della Regione Toscana in via Cavour 4 a Firenze per andare a raccogliere le voci dei vari schieramenti politici dei consiglieri regionali sui temi toccati in questo ultimo Consiglio regionale. È stata approvata la nuova legge sui servizi che possono erogare le farmacie. Il Consiglio regionale in missione a Bruxelles per consolidare la collaborazione fra Toscana ed Europa. Modificata la legge per usufruire del fondo della montagna ne potranno beneficiare più comuni. L'Aula di Palazzo del Pegaso dice sì al provvedimento che regola la nuova legge per i servizi erogati dalle farmacie. L'approvazione è stata data grazie ai voti favorevoli di tutto il Consiglio con la sola astensione del Movimento 5 Stelle. Con questa nuova legge le farmacie potranno integrare ulteriori servizi rispetto a quelli attualmente proposti in modo da dare soprattutto nei territori più periferici dove l'Asl è meno presente la possibilità a tutti di ricevere esami, vaccinazioni e diagnostica. Nella sostanza noi adeguiamo la normativa regionale del 2000, la 16 del 2000, alle mutate normativa nazionale dal 2009 ha aperto alla possibilità di far svolgere nelle farmacie servizi diversi, servizi sanitari diversi e con questa norma anche in Toscana si apre a tutti i servizi che sono da un punto di vista normativo e quindi appunto di vista delle leggi oppure anche di accordi stato-regioni eccetera eccetera, tutti quelli che possono essere servizi che possono essere erogati in farmacia potranno essere erogati anche in Toscana. Discipliniamo le modalità in cui devono essere organizzati gli spazi dicendo che possono essere spazi interni alla farmacia separati per garantire la privacy oppure spazi anche esterni alla farmacia purché abbiano questi requisiti, escludiamo soluzioni come gazebo, strutture precarie, salvo ovviamente situazioni di necessità come è stato per il Covid dove le aziende possono autorizzare e discipliniamo anche tutta una serie di passaggi burocratici cercando di snellirli, abbiamo cercato di eliminare tutti i passaggi non necessari con le quali le farmacie comunicano all'azienda sanitaria che effettua i controlli la loro decisione di avviare nuovi servizi sanitari all'interno delle farmacie. Insomma una norma che va a implementare l'attività che possono essere svolte dalle farmacie per i cittadini in maniera capillare su tutta la regione. Chiariamo quali sono i percorsi burocratici che devono essere fatti, quali sono i requisiti che le farmacie devono avere e chiariamo e diamo certezza sul fatto che possono essere svolti anche in Toscana in maniera abbastanza snella ma garantendo comunque la sicurezza delle prestazioni, quello è un elemento essenziale e le farmacie devono garantire e chi fornisce ovviamente gli apparecchi che vengono utilizzati nelle farmacie. Allora è vero il punto di forza delle farmacie e la loro diffusione su tutto il territorio in una maniera eccezionale che difficilmente potremmo trovare con altre formule. È anche vero però che ci sono e stiamo spendendo tanti soldi nelle case di comunità e quindi rischiamo di avere delle sovrapposizioni per lo meno in determinati territori con la conseguenza di non sapere a chi rivolgersi. Per cui il voto è stato sicuramente positivo poiché inevitabilmente non è possibile non votare a favore di un presidio che possa essere un luogo di incontro per tutte quelle problematiche sanitarie che abbiamo. L'unico dubbio che mi resta è quello di come armonizzarle con gli altri servizi che già eroghiamo oppure stiamo per erogare in base al PNRR dove tanti soldi forse fin troppi sono stati destinati alla costruzione di mura senza prevedere chi saranno gli attori all'interno di queste mura. In realtà ormai si sta sviluppando nel resto d'Europa, si sta sviluppando nel resto d'Italia un concetto di farmacia nuovo e moderno dove la farmacia non è soltanto un luogo dove si vendano e si comprano i farmaci ma è un luogo dove possono essere erogate prestazioni e servizi sanitari, è un avamposto territoriale soprattutto nei territori più sperduti o nelle periferie disagiate delle grandi città del servizio sanitario pubblico. Nelle farmacie dei servizi, nella nuova e moderna farmacia dei servizi potranno essere fatte anche prestazioni di diagnostica di bassa e media intensità, potranno svilupparsi intorno alla farmacia ambulatori sia dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta ma anche di specialisti, potrà lì trovare sede lo psicologo di base, l'infermiere di famiglia, insomma una nuova farmacia che avvicina la prestazione e il servizio sanitario al cittadino, moltiplica i luoghi dove vengono fatte le prestazioni sanitarie, diminuisce le liste d'attesa e accorcia la distanza tra ospedale e territorio. Da questo punto di vista noi siamo convinti che la strada tracciata dal governo Meloni sia quella giusta, sicuramente da questo punto di vista la risposta del Partito Democratico è tiepida ma noi cercheremo di migliorarla nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi. La Regione Toscana si adegua a una normativa di carattere nazionale per offrire maggiori servizi dei presidi come quelli farmaceutici presenti di fatto in ogni città toscana è l'opportunità di dare e erogare servizi aggiuntivi sul fatto per esempio delle prelievi del sangue, sulla parte diagnostica, su alcuni elementi che possono essere e alleggerire il carico di alcuni cittadini nell'ambito dei presi ospedalieri. Questo può essere fatto anche in locali adiacenti alle attuali farmacie, è un investimento che non può essere obbligatorio per quanto riguarda le farmacie è un auspicio di erogare servizi aggiuntivi o un'opportunità che la Regione Toscana consente sulla scia della considerazione oggettiva del fatto che le farmacie sono un presidio importante. La norma non fa un'elencazione puntuale di quello che la farmacia può espletare ma dice che tutto quello, tutta quella diagnostica che non necessita di un laboratorio di analisi, quindi con delle caratteristiche molto puntuali, può essere svolta direttamente nelle farmacie, in particolare penso alla diagnostica da sangue capillare per esempio, quindi non il prelievo di sangue ma tutta quella diagnostica, la glicemia, il colesterolo e chi più ne ha più ne metta che può essere assolutamente monitorata attraverso un accesso in farmacia. Ovviamente questa è una norma, ci saranno probabilmente anche interventi della giunta regionale che andranno a disciplinare in maniera più puntuale le caratteristiche, gli standard per esempio che devono avere i locali che ospiteranno questi servizi, ma l'aspetto importante è appunto questa nuova frontiera che si inserisce anche in un lavoro di costruzione di quella medicina territoriale per la quale i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevedono la realizzazione di ospedali di comunità, case di comunità e quindi in qualche modo un investimento reale sul territorio che vada a integrare i servizi della rete ospedaliera e che soprattutto possa rappresentare davvero una porta d'accesso per la sanità pubblica. Nella prima settimana di ottobre una delegazione della Commissione Politiche Europee e Relazioni Internazionali del Consiglio Regionale Toscano è stata a Bruxelles per partecipare alla settimana europea delle regioni e delle città. Tre giorni dove si è messa al centro la necessità di collaborare fra la Toscana e l'Europa. Sono rimasto particolarmente soddisfatto di questa missione che abbiamo fatto a Bruxelles la scorsa settimana. Una missione di indubbia qualità informativa anche per noi consiglieri regionali e per questo devo ringraziare sia gli uffici sia il Presidente Gazzetti per aver organizzato in modo così brillante questa missione. Va detto che l'Europa è centrale e che dobbiamo cercare di dare il nostro contributo per renderla tale. Una vera Europa, un'Europa che si basi su una coesione autentica, che sia un'Europa in grado di dare risposte concrete a tutta una serie di questioni. Sapete il mio legame con il territorio, ho sempre cercato di mettere avanti rispetto ogni altra considerazione. E per questo anche a seguito dell'incontro con gli europarlamentari, Nardella, Torselli e Susanna Ceccardi e anche a seguito di tutta una serie di incontri con i funzionari abbiamo percepito che c'è un rischio, quella di una gestione eccessivamente centralizzata delle risorse da parte di Bruxelles. Credo invece che se veramente crediamo nell'Europa, in un'Europa dei popoli, bisogna autenticamente dare spazio ai territori. E quindi le regioni devono essere centrali e soltanto così possiamo veramente fare emergere un senso maggiore di appartenenza. Un senso maggiore di appartenenza all'Europa può basarsi soltanto sulla giustizia delle cose e su una autentica coesione. Dobbiamo lavorare in questa direzione e ripeto, missioni come queste sono importanti anche in questa direzione. È stata una missione sicuramente importante, è stata una scelta fortemente voluta da tutta la Commissione politica europea, che ringrazio perché in questi anni stiamo cercando di portare avanti tutte e tutti insieme una serie di obiettivi e questa missione che ha visto la partecipazione di una delegazione della Commissione a cui si è aggiunto con nostra grande gioia anche il Vice Presidente del Consiglio regionale, Marco Casucci, ha permesso di anche individuare tutta una serie di temi e obiettivi che poi cercheremo di portare anche nell'operato della Commissione stessa ma anche all'interno del Consiglio regionale. La cosa ulteriormente rilevante è stata la continua possibilità di confronto anche nei tre giorni passati a Bruxelles sia con il Presidente della Regione Gianni che il Presidente del Consiglio Mazzeo ma anche di una folta delegazione del Lupi guidata dal Presidente Lorenzetti. Questa dimostrazione di come il rapporto tra le istituzioni toscane e le istituzioni europee davvero ha necessità di essere costantemente alimentato da queste forme anche di approfondimento. Devo dire che è stato molto importante e li vogliamo ringraziare per la disponibilità anche il confronto con gli europarlamentari Susanna Ceccardi, Francesco Torselli e Dario Nardella con i quali proveremo a mettere in campo anche forme innovative di rapporti e confronti e poi lasciatemi davvero in conclusione ringraziare anche gli uffici sia del Consiglio regionale ma anche della Regione Toscana a Bruxelles perché si stanno sempre più confermando come un punto di riferimento importantissimo per la nostra realtà e sono sempre e costantemente a disposizione la dottoressa Burzagli ben coordina questa attività così rilevante. Durante l'ultimo Consiglio sono state approvate anche le modifiche alla legge regionale sulla montagna. Il testo è passato con i voti di PD, Italia Viva e 5 Stelle, astenuti Fratelli d'Italia, Lega e Gruppo Misto. In pratica la modifica va in favore dei comuni che non rientrano all'interno dell'articolo 87 di poter comunque attingere al Fondo regionale per la montagna, un fondo introdotto nel 2011 con la legge 68. Abbiamo raccolto una richiesta della consulta della montagna di Anci, vale a dire dei piccoli comuni montani o parzialmente montani che sono quelli che hanno accesso alle risorse del Fondo per la montagna che tra l'altro la regione toscana è una di quelle che mantiene tra risorse proprie e quelle provenienti dall'Europa da ministeri in una quantità più elevata. Ebbene la 68 prima della modifica della legge conteneva una rigidità eccessiva a nostro parere e a quello dei richiedenti perché i singoli comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni non potevano avere accesso diretto magari partecipando al Fondo ma soltanto l'Unione dei Comuni poteva partecipare. In questo modo invece con questa modifica noi in alcuni casi e soprattutto per materie che non sono delegate da singoli comuni che ne fanno parte all'Unione dei Comuni stessa c'è la possibilità di una partecipazione e di un accesso diretto ai fondi da parte di questi piccoli comuni montani. È tutto da cronache e commenti. Come sempre ci rivediamo ogni settimana per andare ad analizzare e a capire i temi che vengono dibattuti all'interno del Consiglio regionale. Nella prossima settimana nuovi argomenti e dunque anche una nuova puntata. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.